a di autoservice dove esperienza e professionalità accendono i motori lean services servizi grafici abbigliamento sportivo antinfortunistica e per qualsiasi professione istituto di vigilanza securità spuglia ristorante e pizzeria le tre torri da giovanni gruppo simpli l'ipermercato più vicino a te todo modo e otella terra caseificio bianca ostuni 30 40 imprese costruiamo la tua solida realtà 1 2 e 3 febbraio ad ostuni la festa della cioccolata sarà un weekend dolce e questo volevo sempre portare a festa del cioccolato ad ostuni perché secondo me è un'iniziativa molto valida poi ovviamente bisogna farlo nel migliore dei modi e qui abbiamo espositori che vengono da tutta italia dalla sicilia piuttosto calabria visto un po tutti quindi questo sicuramente è un orgoglio per me portare un evento di qualità che sicuramente rende felici bambini e genitori abbiamo pensato ai bambini quindi laboratori per i bambini come la poco come vi nasce la cioccolata che cosa si può fare con la cioccolata quindi anche delle coreografie particolari tutto questo ovviamente qui in piazza in questi tre giorni possiamo fare un bilancio di quelle che sono state anche le attività natalizie io vedo stuni viva tutto l'anno questo il mio desiderio è ciò che sto cercando di coronare questo sogno che sto cercando di coronare ci siamo riusciti in parte ci siamo riusciti sicuramente nel periodo di capodanno vedendo un capodanno di cinque giorni con appunto il programma dicevi tu bianca tante altre iniziative importanti collaterali e sicuramente tanta voglia di fare di rendere questo territorio sempre più appetibile per i turisti per gli ostunesi per i turisti limitrofi grazie per i turisti limitrofi